con i viaggi di Renzi, no? È la nostra rubrica, la rubrica che condividiamo. Ma dove è andato? No, è stato fermo. Eh no, si è preoccupato di essere distratto? Marco Aminano ha detto come? Dove è andato? Prego Alessio, illuminaci. Matteo Renzi è andato, scherzo. Renzo Mattei, l'account fake, Lega Forza Italia e Televiva fondano una Superlega a sostegno del governo Draghi per superare l'attuale maggioranza. Superlega. Marco, come lo vedi? Dammi la temperatura, temperatura politica di Renzi? È sempre alta perché Renzi non tollera di stare a basse temperature e fammi fare la battuta forse neanche a bassa quota. Quindi oggi ha fatto un'intervista su Repubblica, tutta l'attacco e lui vive così, se non vive così non riesce a essere. È carattere, è una vita ad alta quota. Grazie a Marco da Milano, grazie davvero Marco, ci vediamo presto. Saluto, lo vedo lì e quindi parte la musica.